Mentre il neoliberismo ci ha detto sii te stesso dicendoci segui i tuoi desideri, Platone dice sii te stesso seguendo il logisticon, cioè la parte razionale della tua anima. Non puoi, non sai, è difficile perché le altre parti dell'anima, cioè la parte delle emozioni e la parte dei desideri sono parti molto forti, bene, ti aiuta con una qualche energia il filosofo.